Musica Buongiorno, sono Cristina, titolare di Bichson Fiori e sono qua per presentarvi la nostra azienda. Allora da noi potete trovare di tutto per quanto riguarda i fiori e le piante, dagli articoli per l'orto. Musica Piante da frutto fino ai fiori per abbellire i vostri balconi, i vostri giardini, gerani, piante perenni, tutto ciò che concerne le piante e i fiori. Inoltre ci occupiamo anche di abbellire i balconi, di fare i giardini e di organizzare eventi e feste, matrimoni, rinfreschi, tutto ciò che riguarda l'addobbo floreale per queste manifestazioni. Musica Vi aspettiamo numerosi, siamo a Gressani in frazione Boretta 1 sulla strada regionale. Musica 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 Musica